Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. Tragico bilancio nella notte per due incidenti mortali sulle arterie interne di Palazzo San Gervasio e Venosa. Un'auto con a bordo tre persone è uscita fuoristrada all'altezza di Palazzo San Gervasio. Uno dei passeggeri è deceduto mentre gli altri due sono stati trasferiti in ospedale. Nel comune di Venosa due auto si sono scontrate provocando il decesso di un uomo di 78 anni, mentre l'altro è stato trasferito in eleambulanza presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Nella sera di sabato scorso i vigili del fuoco del comando di Potenza sono intervenuti per un incidente stradale in località Pantano nel comune di Pignola. Erano stati allertati dalla centrale operativa dei Carabinieri dopo la segnalazione di un automobilista che aveva trovato sul manto stradale del materiale inerte. Nel corso delle operazioni di rimozione però i vigili del fuoco hanno notato in lontananza un veicolo bianco nei pressi del quale c'era il conducente cosciente ma provato da probabili urti subiti nel fuoristrada. Sempre i vigili del fuoco del comando di Potenza sono intervenuti ieri per soccorrere una persona in località Pozzo Volturino di Calvello. L'uomo, un pugliese di 64 anni in cerca di funghi, aveva infatti perso l'orientamento a causa della nebbia fitta presente in zona. Subito ha contattato il 115 e seguendo le indicazioni del personale addetto alla sala operativa ha fornito elementi utili e importanti per rintracciarlo. Alertata la squadra in servizio presso il distaccamento di Villa D'Agri, contemporaneamente è partito un ulteriore squadra della sede centrale di Potenza. Intanto il personale di Villa D'Agri con i carabinieri della locale stazione erano già sulle tracce dell'uomo. Alle 13.33 circa costui è stato ritrovato fortunatamente in buono stato di salute al confine con il comune di Marsico-Vetere ad una distanza di circa un chilometro e mezzo dalla sua auto. Cambiamo decisamente argomento, si terrà a Moliterno il prossimo 27 ottobre alle ore 9.30 la presentazione del programma Shell Inventa Giovani presso l'Aulamagna, capitano fortunato dell'Istituto Petruccelli Parisi. L'iniziativa promossa da Shell Italia a suo invito del comune di Moliterno in collaborazione con l'amministrazione comunale dell'Istituto di istruzione superiori Petruccelli Parisi è rivolta a coloro che sono interessati ad avviare un'attività imprenditoriale in Basilicate. Vedrà la partecipazione di circa 80 ragazzi delle classi quinte dell'Istituto. Chiudiamo con le previsioni del meteo, vediamo cosa ci attende per domani, martedì 26 ottobre. Permane l'azione di una circolazione depressionaria che porterà nuvolosità compatta, deboli ed isolate precipitazioni più probabili nella prima parte della giornata sul metà pontino. Le temperature sono in lieve diminuzione. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e ci ritroviamo qui al Tg7 Basilicata domani sera. Arrivederci.